night è certamente uno dei rapper più tecnici della scena nei suoi pezzi possiamo trovare grandi extra beat e cambi di flow ma anche molti dissing e frecciatine è infatti noto come egli sia un rapper che non si è mai fatto alcuno scrupolo nell'esprimere la sua disapprovazione nei confronti di alcuni suoi colleghi e non e dunque vediamo i suoi dissing e le rispettive risposte in uno dei suoi pezzi più famosi ovvero gli occhi della tigre uscito il 12 marzo 2018 contenuto in raptus volume 3 attacca low low e ricky criticandoli per il loro pezzo intitolato sbagliato ho sentito l'ultimo pezzo di low low e l'altro quanto mi fa schifo attacca inoltre ultimo sfere basta e draft gold come lui stesso ha dichiarato a radio dj non si riferisce a Mahmood come molti hanno pensato ma bensì ad ultimo vincitore del festival nel 2018 nella categoria nuove proposte e sfrutta dunque il gioco di parole tra il nome d'arte di questo e quello di primo brown il vincitore di cui parli è un po' è ultimo si si saremo giovani no ok saremo giovani di due anni fa ed è per questo che poi citi primo che ci sia voglia un bel è un bel un bel gioco di parole quella è una provocazione ovviamente una provocazione anche leggera per gli ultimi due cita il loro pezzo sciroppo riscrivendolo a modo suo qui dice quello che ha detto già quello lì passa di lunedì martedì mercoledì giovedì sfera in una diretta ha apparentemente parlato dell'accaduto senza mai fare il nome di nessuno e ha dichiarato di non voler rispondere al dissing poiché a detta sua non avrebbe fatto altro che dare popolarità a qualcuno che gli va contro tuttavia come già detto il rapper di cinisello non ha fatto alcun nome e non si ha quindi la certezza che si stesse riferendo a night è un altro cosa che vorrei dire raga ce l'ho io io lo so che c'è qualcuno che fa i dissing tutti lo sanno però tirassi il finestrino però la verità è questa che fra come ho detto nella canzone cioè io se mi metto a rispondere a un solo dissing faccio famoso il cristiano e quindi dico ma perché devo far famoso uno che pretende di diventare famoso venendomi contro ma vai a fare la verità è che tanto poi tutti questi qua ecco anche questo raga registratelo se voi prendete uno di quei rapper che mi ha fatto un dissing se io adesso gli scrivo e gli dico fra vorrei fare una canzone con te il tipo sviene per un quarto d'ora per un quarto d'ora sviene tutti questi che fanno i figli raga poche chiacchiere infatti parlano lo stesso anno esce un episodio di real talk avente come ospite il rapper esattamente il 7 agosto 2018 qui nel suo freestyle night inserisce tra le sue barre una frecciatina nei confronti di mike ixnob inizialmente i due pubblicano delle storie su instagram parlando dell'accaduto ma il 7 settembre 2018 esce alleluia di ixnob dove appunto risponderà sul beat nel pezzo cita anche schioffi amico di night che verrà quindi coinvolto nel dissing la brodo ancora i tuoi messaggi dove mi succhi l'anno scorso dicendo sono con te appoggio la tua lotta a questo a quello perché vuoi tutto il mio c***o in gola ora te lo metto io non ti preoccupare fammi finire di prendere il sole comunque vorrei dire una cosa io ogni volta che faccio il nome di qualcuno è sempre motivato da qualcosa c'è uno mi denuncia gli dico qualcosa uno fa un post oppure fa il furbetto come per sto magazine gli scrivo qualcosa nel tuo caso non so manco chi sei però ti dico una cosa almeno due barre due rime le chiuse nonostante dovuto di stare tipo mezza scena per farti cagare tu due rime le chiuse per tal motivo ti assicuro che da rapper ti rispondo poi fatti il segno della croce però che guarda che io l'anno scorso ti ho dato supporto perché mi dava fastidio che un rapper dovesse avere tutti quei cazzi soprattutto uno adulto che comunque vuole fare roba quindi su quello hai sempre avuto il mio supporto rispetto anche pubblicamente io parlo di qualcosa nei pezzi è perché evidentemente mi preme parlarne mi va di parlarne non devo stare a spiegazioni a nessuno mi sono sentito tirato in causa fortissimo adesso preparo io una roba e vi spiego un attimo come stanno le cose e quali sono le gerarchie in ogni caso state tranquilli perché sto preparando il dissing mi fa solo molto piacere che tutti tutti da un anno a questa parte stanno facendo il mio nome perché mi vedono come il pezzo più alto il pezzo da 90 da dissare quando avete disrispettaron a centri di vita Io sono un artista soltanto perché c'ho scazzi con lui, io non voglio spargere odio, voglio soltanto dire quello che penso a chi mi ascolta. Comunque non faccio nessuna sceneggiata, non sono mai stato capace, sono una verità, strumento. Ovviamente non vuol dire che non apprezzo il supporto nei miei confronti. Adesso continuo a cagare, perché tanto sui social... Night, nel suo repertorio, può vantare collaborazioni con pezzi grossi della scena hip-hop italiana, come Vegas Jones e Ta Supreme. Con loro ha collaborato rispettivamente nei brani Frecciarossa e Oh God, apparendo come featuring. In entrambi i pezzi ha inserito un dissing. In Frecciarossa, uscito il 23 novembre 2018 e contenuto in Bellaria Gran Turismo di Vegas, manda una frecciatina ad Elettra Lamborghini. Nel particolare, fa riferimento al suo video Mala e dice di come, a suo parere, Elettra non si sia fatta notare per la sua musica o per il suo talento nel cantare, ma bensì per il suo essere provocante. Dunque, ritiene che se questi sono i motivi che l'annorezza famosa non sono assolutamente degni di nota. E No God, invece, uscita il 30 novembre 2018, attacca Shadia Rodriguez. In una barra al veleno, spiega come non apprezzi la musica della trapper, e si chiede se questa, nei rapporti sessuali, abbia la stessa abilità che ha nel rappare. Nel dissing, il 29 marzo 2019, si intrometterà Wayne Santana, ai tempi fidanzato con Shadia, che nel pezzo Donna che conta remix, di Miss Keta, dove appare come featuring, citerà la barra di Night per rispondergli e dunque prendere le parti della ragazza. Anche il nome DJ Axe è finito dentro le rime di Night. Già menzionato nel freestyle di Real Talk, in Effetto Domino, uscita il 15 marzo 2019 e contenuta in Raptus Vol. 3, Il rapper di fame afferma che preferirebbe diventare un analfabeta e votare Matteo Salvini, piuttosto che sentire ancora i pezzi del rapper milanese in radio. Infine, troviamo un pezzo di Clementino, in cui Night è apparso come featuring. In Hola, uscita il 12 aprile 2019 e facente parte dell'album Tarantelle, del rapper napoletano, Night si lascia andare contro Fishball. La Suicide Girl, esattamente il giorno seguente, pubblica Crack This Freestyle, in cui risponde con rabbia al rapper. Mi rilasso, se ti rilisca, è uno scasso, buca il rapper fatta e bifo power. Che è scasso, starmi come scusa, per dire a tutti i tagli che in realtà non ti funziona i cazzo. Tra vengo dal basso con le feste, ma anche a Bessacoli resta con le creste. In testa, c'è la m***a, dissi Fishball, dissi La Sardegna, passata. Prima scioglia adesso io, se hai problemi con le donne feste non è tutta mia, porco d***o. Giochi con il fuoco, questo è il risultato di che a casa viene amato troppo, troppo poco. Semici sui meriti, dei lividi vivi, ritorno a casa, cammini su gomiti finché non vomiti, ma quali amici non ho simili. Testa di simili, di spiriti, di civici, di esperimenti, chimici. Pagni di crassi, una traccia, per davvero, con chi aveva dei seri problemi, di coca fino a ieri. Che fumava, che è vero, non lo leggo, mi sei sotto, tipo sedia, fa fammi una sega. Non ti ha rispetto, per chi ci stava sotto, dalla m***a io ne sono uscita, tu son cacassotto. Finto ora per finto ghetto, vieni in zona mia, frattori a casa è rotto. Oh, basta copiare il flow di Eminence, inventa di qualcosa di tuo, cazzo. Comunque con questa chiudo, succhiami il c***o, tanto lo so che ti piaccio. Yau. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like, commentate con gli artisti da inserire nel prossimo episodio e iscrivetevi al canale per altri contenuti simili. Grazie. 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 Grazie.